E bella a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Cronatomist Oggi siamo qui con un video di Fortnite ma non sono da sola perché siamo qui con la signorina Giorgina Ma ciao ragazzi, oggi mi sento molto swag, mi sento molto carica, con questi occhiali super fresh spaccherò tutto Allora, non mi fare agitare e stai calmo, ok? Don't worry, be happy Grazie, allora ragazzi, oggi siamo qua come ho detto appunto poc'anzi su un video di Fortnite perché proprio ieri è uscito un nuovissimo aggiornamento veramente spaziale Finalmente hanno fatto qualcosa che in realtà secondo me dovevano fare tantissimo tempo fa Hanno rimosso finalmente la combat smg che a parer mio era troppo OP, correggimi se sbaglio signorina Mamma mia le laserate che ti faceva con l'smg era sgranata Era veramente fuori di testa, hanno aggiunto e modificato alcune zone della mappa Ma soprattutto hanno messo una nuova smg in sostituzione della combat smg che sarebbe la charge smg Quindi un smg che devi tipo ricaricare i 30 colpi fino alla fine e poi smittraia tipo ta-ta-ta-ta tipo come se fosse una minigun Ma scusso, puoi ripetere il suono? Poi ragazzi vedi che veniva questo video mi raccomando lasciate subito un bel pollice in su Iscrivetevi al mio canale manca quello di Giorgia che trovate qui sotto in descrizione E vi ricordiamo che ci trovate in live tutti i giorni da che ora? Dalle ore 17 link di tutti i social in descrizione ragazzi Quindi ragazzoli ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare Buona visione Ok ragazzi siamo finalmente in partita direi di buttarci subito Non nella zona che tu pensi non andremo ai monasteri ma andremo a crocevia Ok perché è il posto dove mi porta sempre fortuna Sei d'accordo? Ok pensavo volessi andare a monasteri mischiati Che è la nuova zona e invece crocevia Ma chi dai Allora ragazzi perché che dai nomi alla città di Forteney Cioè cosa vuol dire monasteri mischiati? Tu mi direi sono tanti monasteri mischiati Sì ma non ha comunque senso Perché crocevia Konichi invece beh devo dire che ha un nome di tutto rispetto ragazzi Una collaborazione con i cinesi capito? Konichiwa Che ci sta Ma non c'è nessuno No uno è andato qua letissimo da me Ma è un bot questo Ragazzi ma cosa sto vedendo Ragazzi cosa sto vedendo Vabbè senti non ti so fermare sui bot L'obiettivo è trovare ovviamente la nuova SMG Non mi voglio fare nessuna domanda perché quello che ho visto adesso è veramente imbarazzante Tu non puoi vedere quello che ho visto io ma ti assicuro che è imbarazzante Scaroro Così lui mi dà lo scaroro Vabbè scaroro ragazzi Finto scaroro Non dissatemi solamente perché lo chiamo lo scar Non è uno scar Ma esco qua e c'è uno che mi fa tanta vu Aspetta 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 due Aspetta due Aspetta due Aspetta due Aspetta vuol dire che va tutto bene Esatto bravissima Cioè nessuno non smuovere mai nessuno Esattamente Ecco perché tu mi rompi i macchini tutti i giorni Esatto E non attieni comunque niente perché sei comunque una padrazza No Sari in macchina Andiamo E cosa ne pensi di Cavolo la UG Niente ragazzi Purtroppo ogni volta che vedo qualcosa che voglio lootare Martina non me lo fa prendere Cioè lei va No Lei va Perché lei ha loot Allora va bene Io ho loot Ho un SMG nuova grigia Senti prendi Prendi il motorola E fammi prendere lo striker Cristo Diaz Vai c'è quello C'è quello Oh guardia C'è quello Ha la busce SMG 1 2 3 4 5 Tadadadada Dio Ce ne vanno donne le 4 e mezza Se indovini l'npc Se vende la mitaglietta O viola o oro Hai un premio La vende palesemente viola Perché il detto Sul fenicottero ambulante Mi ha palesemente rivelato Che l'economia aziendale del paese Ha scrautato dei nemici qua E di conseguenza Scrautato Non scrutato Scrautato Ecco vedi vedi 30 58 Crack No 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 L'altro no però Che roba top 30 crack Ho fatto solo Solo headshot Ti giuro Solo headshot Ma raga vi giuro Allora Ha un rinculo Ha un rinculo fuori di testa Ma se controllate bene il mouse Tipo Lo tenete fermo E andate verso il basso Tipo stile valorante Raga vi giuro Fa un danno veramente fuori di testa Non dico che si regge Bene il rinculo Chicca Allora riuscite a reggere un minimo Non c'è La vez Come non c'è Non c'è L'hanno ammazzata L'hanno ucciso L'hanno uccisa Ma stai scherzando Ti lo giuro Hanno ucciso la tipa Che vende la vitraietta No Deve veramente scoppiare Il catetere sinistro Ti giuro Ma La sai la differenza Tra babbo natale e un prede Sta cosa Ti giuro E così La sanno pure i bambini Dai dilla Dilla E' imbarazzante Non posso dirla Il pacco che ti porta No Ragazzi un applauso Per il giallo Già nei commenti Brava Veramente Sei fortissima Grazie Schiacciato Dai sopra l'albero Guardalo Trenta Trenta Triplo Occhio 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 La sera no Eh La dovrebbe essere l'amico Sì 29 Ho fatto 29 di notte Te l'ho Veramente Non stillato Ti giuro Peggio Te l'ho proprio Rubato Che peggio La politana Con i rolex Quanto è una cosa Che non fai mai Che è un problema Oh guardalo qua sotto Come correai Di pascola Le caprette ti fanno Ciao Vai vai Io vado Di una pompata Mega galattica 121 Vai 17 17 17 Mamma mia E guarda Lì sopra 28 Triplo 42 28 Di nuovo L'altro Triplo 28 Anche quello Io voglio busciare Mi dà una poco fastidio Ti giuro Voglio andare con l'arpione L'ho fatto Vai Sì ma che cacca Sei sola eh Ricordati Sono due Vengo su con la zipline Se riesco Al massimo muoio tranquilla Hanno riftato? Sì hanno avuto paura di me Beh Non li biasimo Ok Sono qui Tranquilli Senti? Sì vai Corri Corri Spacca Vai Vai Spara tu Spara tu Vai 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 No ma tanto Questo qua è un'oglio Come c'è C'è anche rift qua Non sparo eh Di piccone? Ok Non ho voluto sparare C'è t'ho lasciato Ma lo stavamo melando C'era un Ma sono detamentati questi Perché c'è la macchina Che mi blocca C'è Eccolo qua Quattro 48 Muoio 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 Però è white Ora è il tuo momento di clacciare Ha fatto il fortino Quindi proverà a arrestarlo forse Si è fatto le splash DSMG signori E vedi Vedi che morire è stato utile DSMG E forti Fa veramente troppo danno Ha un rinculo pazzesco Ma fa troppo danno E la portiamo così ragazzi La portiamo a casina così Quanti danni hai fatto? Fammi dei ridanni Ho fatto esattamente 1259 Quante kill e assist? Assist 3 7 kill Non so quanto ti danno fatto io 2600 Vabbè senti Lascia No Non hai voce in capitolo No Allora Sono stata comunque Andiamo nell'auto Non hai voce in capitolo Let's go Bene ragazzi Siamo arrivati alla fine di questo video Come avete visto Abbiamo provato l'SMG Abbiamo fatto anche la bella vittoria E devo dire che l'SMG ragazzi È veramente sbroccata Fa un danno veramente porco Ha un rinculo Che fa veramente schifo Ma un minimo si riesce a controllare Poi vabbè C'è stata Giorgina in questo game Che Ho fatto io Big danni ragazzi 1200 Qualcosa danni Con tutte kill Stillate da parte di Martina Purtroppo Se no sarei stata veramente Le ho stillate io ragazzi Perché sono una persona Veramente ridicola Ma l'importante Ma l'importante è che abbiamo vinto Che abbiamo trovato l'SMG E che abbiamo avuto modo di provarla Di vedere quanto fosse sbroccata Quindi io mi ritengo soddisfatta Di conseguenza ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando E non l'avete ancora fatto Lasciate un bel pollice Inizio a questo video Vi lascio qui sotto In descrizione Tutti i vari social Miei E anche ovviamente di Giorgina Dalla vostra Creatomist E qui in Giorgio è tutto Bella a tutti ragazzi Bella ragazzi